Sì, è stata una vittoria importante perché comunque eravamo quasi costretti a vincere, anche se non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, però i risultati e le vittorie fanno morale e come si dice vincere aiuta a vincere, quindi ci prendiamo questi tre punti e andiamo avanti. Sappiamo tutti che la Serie B è un campionato difficile perché ogni partita va presa con il giusto atteggiamento e le giuste precauzioni perché si può vincere e perdere con chiunque, quindi certo non mi aspettavo di trovare tutte queste difficoltà perché tutti noi speravamo di iniziare meglio, però sappiamo le nostre qualità, sappiamo i nostri punti di forza, i nostri punti deboli su cui dobbiamo lavorare e andremo avanti così. Sicuramente sono contento di questo perché fa piacere e mi dà un grande orgoglio, però io mi alleno sempre al massimo come tutti quanti i miei compagni, poi il mister fa le sue scelte, lo ringrazio di questa continuità e spero di far sempre meglio. Sì, quella è una grande soddisfazione, come ho sempre detto deve essere un punto di partenza per cercare di fare sempre bene con questa squadra perché come ho già detto le convocazioni in Under 21 passano dalle mie prestazioni qui. Sappiamo che è una squadra forte ma come ho detto prima ogni partita è difficile e va presa con il giusto atteggiamento, quindi sicuramente in casa ci teniamo più di ogni altra cosa e faremo la nostra partita. Grazie. 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 Grazie.